Per questo la linea TAV fa sabotata, la frase rientra nel diritto di malaugurio. Ministri di questo e di altri governi hanno dichiarato la linea TAV in Val di Susa opera strategica. Strategico e aggettivo di origine militare. Stratega era il comandante dell'esercito greco. L'effetto è anche militare. Il cantiere della perforazione e la vallata sono sotto presidio di forze armate, oltre che di corpi di polizia e carabinieri. Area di interesse strategico vuol dire semplicemente area sottratta di senso, dove non si può protestare e dove pertanto...